Pagania è una città depressa, occorre risollevarla dallo stato soporifero in cui è piombata dall'epoca dei commissari ad oggi. Ne è convinto il candidato a sindaco Carlo De Martino che ad una settimana dalla ufficializzazione della sua candidatura parla del programma e sviscera i punti salienti per il rilancio della città di Sant'Alfonso. Sicurezza, sviluppo urbanistico, economia ma anche rigore e legalità. Restituire insomma la città ai paganesi dopo anni di appiattimento. Per farlo c'è bisogno anche e soprattutto di entusiasmo, grinta, voglia di fare e di idee chiare. Prende ad esempio le opere realizzate dall'amministrazione Gambino e non lesina di parlare del feeling con l'attuale consigliere regionale. Sono mesi che parliamo io e Alberico perché abbiamo un denominatore comune, l'amore per questa città. Alberico è stato un buon sindaco, un ottimo sindaco, ha realizzato opere importanti per la città, aveva creato entusiasmo, ha entusiasmo. Quello spirito è uno spirito importante per quel modo di fare, è un modo di fare importante per voler cambiare le cose. Noi ora stiamo ragionando su un progetto che coniughi rigore e coraggio perché deve esserci il rigore nel rispettare i debiti che il comune ha, tutte le cose che ben sappiamo ma bisogna avere il coraggio anche di cambiare le cose. C'è la possibilità, intervenendo con un piano finanziario diverso da questo qui, investendo sulla sicurezza, creando opere pubbliche, creando una città sicura, c'è la possibilità di rilanciarla questa città. Abbiamo ragionato di questo e su questo abbiamo tanti temi in comune e mi auguro, sarei molto contento che Alberico Gambino possa sostenere questo progetto di cambiamento della città. Io tra l'amministrazione dei commissari e l'amministrazione Bottone non è che vedo tante differenze, la città era in ginocchio con i commissari e in ginocchio dopo i cinque anni di amministrazione Bottone. Io credo che la città si possa rilanciare solamente con un progetto alternativo a quello che è stato fatto negli ultimi otto anni, un progetto rigoroso ma un progetto coraggioso, se manca coraggio non si ottiene nessun risultato. Con quali garanzie? Con quali garanzie? Io sono convinto che con politiche coraggiose, con una città sicura, con una città vivibile, Pagani potrà tornare a vivere dal punto di vista economico. Noi abbiamo una fortissima tradizione commerciale che sta scomparendo, sta scomparendo perché nessun imprenditore ha più interesse ad investire in un contesto del genere. Noi possiamo tornare ad essere una città bella, vivibile e una città dove si può investire. Intorno a questo progetto di cambiamento, di svolta della città, si possa creare la più ampia aggregazione possibile, perché se non c'è un coinvolgimento forte, politico e sociale, è difficile ottenere cambiamenti. Poi le persone che faranno parte di questa squadra dovranno essere persone motivate, persone che hanno a cura il rilancio della città e che hanno sposato in pieno le nostre linee programmatiche. Noi non faremo un programma così tanto per farlo, noi faremo un programma con dei punti concreti, precisi e abbiamo le idee chiare su come realizzarli. Noi non faremo un programma così tanto per farlo,